In media dormi meno di due ore. Sì, beh, che posso dire. C'è una grande vita notturna qui. E allora che cosa fai con le pillole? Dovrebbero aiutarti a dormire. Le prendo. Davvero? E poi le butto nel cesso. Perché? Non mi serve il suo aiuto. Mi hanno addestrato a dormire ovunque. Ti hanno anche addestrato a non dormire? Perché non vuoi dormire? Hai paura di addormentarti per gli incubi? La nostra terapia è molto semplice. Vivere e sperimentare pienamente quegli incubi è l'unico modo per controllarli. Posso dare un'occhiata? Prego, faccia pure. Cercare di rivivere un incubo è come tirare una ragnatela. Se si tira troppo forte, si rompe. Ma noi invece la tireremo delicatamente. E quando l'avremo tolta, il senso di impotenza davanti agli incubi scomparirà e riuscirai a controllarli. È questo lo scopo del diario. Anche se ciò che scrivi non ha senso. Beh, niente di tutto questo ha senso! Perché non mi aiuta?! Billy, calmati. So che quello di cui parliamo fa paura. Che diavolo sa? Crede di aver risolto tutto, eh? Con quel maledetto dipinto di Dio e la stronzata del caro diario! Sei agitato perché devi dormire. Ehi! Noi! Oh, 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 oh. Ah! Ah! Agh! Ah! Ah! Salve, dottoressa. Sicurezza, iniziale di segura di isolamento. Guarda, guarda piano. Siamo sfregiati. Via, via. Perché non ha gridato? Perché non ha detto niente? Non voglio che ti facciano male. Non puoi ancora cavartela da solo, ok? Fidati di me. Puoi sistemare le cose. Ce la puoi fare, io ti aiuterò. No, invece, non si può. Billy. Billy! No! 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 No!